Deciso balzo in avanti dei contagi. Nella settimana dal 6 al 12 dicembre a Piacenza si sono registrati 439 positivi con un aumento del 30,3% rispetto ai 337 della settimana precedente. Un vero e proprio boom rispetto all'Emilia-Romagna, più 13,5% e l'Italia, più 15%. Le USCA, le squadre di intervento a domicilio, stanno subendo una forte pressione. Solo nella giornata di ieri gli interventi sono stati 170. Il numero dei tamponi eseguiti questa settimana è il lieve calo. La percentuale di nuovi positivi rispetto ai tamponi però sale al 4,1%. Il report di questa settimana continua a indicare anche una chiara tendenza rispetto alle fasce d'età. Si contagiano maggiormente i bambini e i ragazzi fino ai 17 anni, 301 casi su 100.000 abitanti, e i giovani tra i 18 e i 40 anni, 161 casi su 100.000 abitanti. Le persone attualmente in isolamento o quarantena salgono da 1517 a 1702. Anche in pronto soccorso si registra un lieve incremento dei parametri. Gli accessi medi giornalieri per sintomi riconducibili al covid passano da 4 a 8. Siamo in piena quarta ondata, sottolinea il direttore generale Luca Baldino, che invita a vaccinarsi. La variante Omicron, di cui sono stati trovati i primi due casi a Piacenza, risulta infatti tre volte più contagiosa della Delta. Grazie a tutti.